E statica compie dieci anni tra musica, cabaret, teatro e tanto divertimento. La storica Kermes, promossa dal Marina di Pescara, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara e il patrocinio delle due province e del Comune di Pescara, già forte di una costante partecipazione di pubblico, arriva quest'anno al suo primo decennale e si prepara a spegnere le candeline nel nome della qualità e della fruibilità dei numerosi spettacoli in programma, con oltre 40 appuntamenti. Tanti i big in arrivo, dal 30 giugno al 1 settembre, l'opera tosca il 5 agosto, con l'orchestra sinfonica Duchi d'Acqua Viva, ma anche Salmo, tra i rapper più amati del momento, il cantautore Calcutta, capofila del nuovo pop italiano e Carl Brave, cantante macchina da guerra, come lo ha definito Rolling Stone Italia, rispettivamente il 6, l'8 e il 10 agosto, tre date che portano il nome di Zoo Music Fest. Dieci anni di Estatica è un evento che ormai tutto l'Abruzzo aspetta perché il marino apre le porte a tutta la cittadinanza. È chiaro che questo è un porto turistico, usufruito soprattutto dai diportisti, ma questo è un evento che dà l'occasione a tutti di accedere e visitare il nostro marino. Devo dire che decimo anno, voglio ricordare una persona importante perché questa conferenza oggi avviene in un padiglione intitolato proprio a lui, Daniele Becci, proprio grazie alla sua lungimiranza e a quel CDA che appunto è nato questo cartellone estivo qui al marino. Un cartellone estivo che soddisfa un po' le esigenze di tutti, dai bambini agli adulti, perché ci sono serate dedicate all'enogastronomia del territorio, c'è una tre giorni di una street food dove vengono appunto rappresentanti di tutte le regioni italiane, serate dedicate al cinema, al teatro, alla moda, quindi diciamo che ogni anno abbiamo tantissimi visitatori, abbiamo oltre 100.000 visitatori ogni anno, quindi festeggiamo questi dieci anni con grande orgoglio. Dal 4 al 7 luglio Street Food Time, il più grande evento street food mai realizzato nel centro-sud Italia. Truck food bellissimi e ingredienti super per soddisfare le esigenze alimentari più disparate, dall'aperitivo al dolce, passando per primi piatti, secondi, contorni, formaggi e pizze, centinaia di proposte culinarie provenienti da ogni regione d'Italia, decine di birre rigorosamente artigianali, pregevoli vini, freschissimi cocktail, quattro giornate di puro piacere e divertimento. L'enogastronomia diventa il canale principale di promozione regionale, mentre le mete turistiche si gustano e si assaporano attraverso le nostre tipicità agroalimentari, affari da cornice, all'espressione della regione più verde d'Europa, anche le eccellenze artistiche ed artigianali, dall'oro al ferro battuto, dalle ceramiche alle pietre preziose. Carmine Salce è vicepresidente della Camera di Commercio, tutto è partito grazie ad un'iniziativa della Camera di Commercio e oggi a dieci anni si raccolgono i primi grandi risultati. Sì, nel 2009 in Camera di Commercio ci ponemmo il problema di collegare un po' di più il Marina di Pescara, questo splendido gioiello che noi gestiamo alla città e alla regione. E quindi abbiamo iniziato a programmare degli eventi, abbiamo coniato questo logo Estatica e quindi da allora siamo partiti e ci siamo collegati in questi dieci anni anche agli altri enti che si occupano di organizzazione di eventi nella nostra città e nella nostra regione. Abbiamo fatto da sempre collaborazioni con le ente manifestazioni e quindi adesso siamo dopo dieci anni a presentare un programma molto ricco, un programma che vede questa città al centro per l'estate della regione Abruzzo e non solo e quindi ci siamo preoccupati nell'organizzazione di questi eventi sempre di dare maggiore spinta alle attività economiche presenti sul nostro territorio perché la nostra missione è quella di spingere l'economia nelle sue varie forme e l'utilizzo della cultura e dello spettacolo per spingere anche settori economici importanti della nostra città, della nostra provincia e della nostra regione ci è sembrato un connubio effettivamente da cogliere. Dopo dieci anni riteniamo di esserci riusciti, ringraziamo naturalmente per la splendida collaborazione il Marina di Pescara e tutti gli altri enti che hanno collaborato a rendere questa manifestazione ormai unica nel panorama abruzzese e ringraziamo anche tutti gli artisti che scenderanno nel nostro palco naturale per dare lustro a questa splendida manifestazione. Una location veramente stupenda quella del Marina di Pescara che si presta perfettamente a questo tipo di iniziative. Sì, anche perché noi, questo Marina organizza anche altre manifestazioni durante l'anno, manifestazioni di settore, abbiamo quest'anno svolto una splendida manifestazione per la nautica da riporto, sotto costa, ci sarà a luglio nell'ambito di estati anche un'altra importante manifestazione enogastronomica che si chiama Mediterranea e quindi diciamo che questo scenario noi lo utilizziamo proprio come vetrina della nostra economia, della nostra cultura, della nostra musica. Oggi la presentazione del calendario che è molto ricco si realizza proprio nella sala intitolata Daniele Becci. Sì, perché adesso è proprio il caso di ricordare che dieci anni fa nel 2009 Estatica fu frutto dell'intuizione del presidente della Camera di Commercio Daniele Becci e dell'intera giunta che già dal 2009 cercò di stimolare il porto turistico Marina di Pescara e gli organismi del porto turistico a organizzare questo tipo di manifestazione e insieme siamo andati per dieci anni. Carlo Masci, primo cittadino di Pescara, dieci anni di Estatica qui al Marina. Sì, è un programma molto interessante, c'è una sinergia importante con il comune perché il porto turistico e il comune devono viaggiare insieme e il porto turistico organizza iniziative significative per un'estate molto viva perché Pescara si caratterizza per essere una città che vive d'estate in maniera sopra le righe perché Pescara è una città che comunque deve offrire al turista spettacoli, programmi culturali, iniziative di ogni genere proprio per fare in modo che ci sia un'attrattiva continua perché Pescara è l'attrazione da Abruzzo e noi vogliamo in questo modo caratterizzarla. Grazie a tutti! Grazie a tutti!